Ciao a tutti, sono Claudio Chiara, molti di voi mi conosceranno, sono un musicista, sassofonista, compongo e arrancio musica. Il mio strumento è il sax alto, con cui faccio concerti di musica jazz come freelance e come alto lead in numerose big band. In tutti questi anni di attività concertistica ho avuto modo di collaborare con moltissimi musicisti italiani e stranieri. La lista dei grandi artisti con cui ho avuto la fortuna di collaborare sarebbe molto lunga, ma voglio ricordare alcuni di questi grandi personaggi, tra cui Joe Russell, Kenny Wheeler, la Chas Mingus Dynasty Big Band e Carla Bley e Steve Swallow, ricoprendo sempre il ruolo di alto lead nelle big band dirette da ciascuno di loro. Voglio ricordare in inoltre la lunga militanza nella big band del grande Gianni Basso, purtroppo scomparso da qualche anno. Ricordo Gianni come un grandissimo musicista di jazz, un grande amico e tra di noi c'era una grande stima. In quell'orchestra ho imparato tantissimo, ma soprattutto ho imparato la disciplina che la big band impone ad ogni singolo componente. E devo dire che la big band è l'unica scuola dove si può imparare a suonare musica jazz. Non esiste un'altra scuola, esiste solo la big band. Voglio ancora ricordare questa straordinaria esperienza musicale con uno dei più grandi artisti a livello mondiale, e si tratta del grande Paolo Conte. Faccio parte della sua orchestra da circa 24 anni, suonando nei teatri più importanti di tutto il mondo. Ho deciso di aprire questo canale YouTube per poter condividere la mia esperienza musicale con tutti voi. Se avete qualche domanda di carattere musicale da rivolgermi, sarò ben felice di rispondere e di dare qualche consiglio. Naturalmente, se vi fa piacere, potete iscrivervi al mio canale. Intanto vi ringrazio per l'attenzione e spero di vedervi presto e numerosi. Ciao, a presto.